L'azienda è nata dieci anni fa e praticamente è nata con la produzione di supporti, quelli che si chiamano cavalletti, invasi, puntelli, tacchi, per barche. Da prima ci siamo rivolti a quella che era una barca media, quindi dai 50 piedi ai 70 piedi, poi mano a mano abbiamo inserito attrezzature per megajocchi. Oggi siamo in grado di gestire e supportare a terra barche di diverse migliaia di tonnellate. L'ultima nostra creazione è una cabina commissionata da Fincantieri per la Romania, che è lunga 80 metri, larga 37 e alta 9. È una mega cabina che ci ha qualificati veramente in questo settore che per noi era nuovo. Ci chiedono qualcosa che riguarda la metalmeccanica in cantieristica lavale e noi la progettiamo e la realizziamo, certificando sempre c'è tutti i nostri prodotti. Questo per esempio è un cavalletto dedicato alle barche a vela. È un cavalletto con inclinazione regolabile e può essere usato sia verticale che con l'asse telescopico sul davanti si inclina proprio per raggiungere il punto ideale da taccare la barca, che in gergo si dice taccare. Questo per esempio è uno strumento che noi realizziamo in 10 tonnellate, 30 tonnellate, 50 tonnellate a seconda dalle esigenze del cliente. Quindi riusciamo a gestire piccole barche medie e grandi barche a motore a vela. Questo per esempio è un cavalletto per barche a motore, per giga barche a motore, perché ha una portata certificata CE di 50 tonnellate e quindi anche questo qui nei vari numeri può gestire barche di diverse centinaia di tonnellate.